Ciao ragazzi, vi ringrazio per essere qui sul mio canale anche quest'anno e colgo l'occasione per farvi i migliori auguri di buon anno a tutti. Quindi bentornati, mi raccomando fate l'iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornati per tutti i nuovi video che verranno prodotti e lasciate un like al video se vi sarà piaciuto. Questa sera voglio farvi vedere un sito che ho trovato molto molto interessante e lo voglio proprio vedere insieme a voi proprio da zero dalla fase di iscrizione quindi no login ho sbagliato scusate ok andiamo mettere la nostra mail creiamo una password clicchiamo su non sono un robot benissimo e poi clicchiamo su sign up ed entriamo dentro praticamente l'interfaccia si si presenta come quella di free bitcoin che già conosciamo clicchiamo su non sono un robot e facciamo un claim e adesso abbiamo abbiamo vinto 70 satoshi perché il numero che è uscito è 5384 ed è minore di 9801 quindi paga 70 satoshi quindi questo è la base di ciò che si può vincere ogni quarto d'ora nel momento in cui andiamo appunto a effettuare il claim poi vediamo cos'altro cos'altro ci propone ci propone ci propone il mining benissimo quindi allora vado a disabilitare un attimo il mining su pop spins e lo attivo qui metto gli otto processori che sono quelli che ho a disposizione velocità massima ah probabilmente perché c'ho vediamo un attimo c'ho questi attivi gli adblock attivi ok facciamo un refresh e infatti adesso mi chiede il permesso di poter effettuare il mining e glielo diamo e come vedete sta iniziando a minare e lo lasciamo andare qua iniziamo a vedere due satoshi di guadagno benissimo andiamo a vedere anche il daily bonus daily bonus praticamente sono dei link che dobbiamo cliccare e ci vengono pagati 150 satoshi o 100 satoshi quindi andiamo a vedere come funziona clicchiamo il primo link ci dice di visitare il sito partner lo visitiamo abbiamo visitato il sito e ci sono stati accreditati 150 satoshi quindi torniamo indietro guardiamo il secondo link guardiamo il secondo link visitiamo chiudiamo il link 150 satoshi torniamo indietro terzo link benissimo un bel paio di tette ci escono fuori ok 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 benissimo benissimo facciamo un refresh come vedete ho già guadagnato 820 satoshi in pochissimi minuti il daily bonus adesso ci dice che appunto non è più disponibile perché appunto è giornaliero potremmo farlo ogni giorno e niente 820 satoshi in pochissimi minuti vediamo l'uidro e ci dice che praticamente il minimo di prelievo è 70.000 satoshi quindi allora abbiamo scoperto che in pochissimi minuti abbiamo fatto 820 satoshi e che il limite di ritiro è di 70.000 vediamo poi cosa c'è in profile mettiamo il nostro indirizzo no non devo cambiarlo perché non mi interessa no qua non non vado a toccare nulla guardiamo i referrals e non ci dice però quanto si guadagna con i referral vabbè ve lo farò sapere nel prossimo video diciamo che abbiamo visto praticamente tutto qua mancano 8 minuti al al nuovo claim che si può effettuare e niente ci vediamo alla prossima dai diciamo che abbiamo fatto in 5 minuti 820 satoshi direi che è decisamente interessante il mining continua a procedere ah no lo sta andando ah sempre perché ho l'adblock attivo e adesso infatti parte lo metto al massimo adesso me ne vado a letto e lascio andare avanti il sito a produrre un po' di satoshi va bene ragazzi con questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto vi faccio ancora nuovamente degli auguri di un buonissimo 2019 mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un like se il video vi è piaciuto ci vediamo alla prossima ciao a tutti buonanotte